Un Messia non vincente che usa parole destinate all'insuccesso. Papa Francesco all'Angelo, sin piazza San Pietro, riferendosi al discorso sul pane della vita, racconta così i pensieri della gente che ascoltava Gesù. Anche gli apostoli, soggiunge, sentirono disagio per quel discorso inquietante che metteva in crisi la loro mentalità e la nostra di oggi davanti allo spirito del mondo e alla mondanità. Francesco ricorda la chiave offerta da Gesù per superare la difficoltà. La sua origine divina, disceso dal cielo, li ritornerà. L'azione dello Spirito Santo che fa comprendere queste parole e, infine, la mancanza di fede che non permette di capire. Gesù, afferma il Papa, costringe ad una scelta precisa. Stare con Lui vuol dire fedeltà ad una persona nella profonda libertà. Egli ci ripulisce dalle incrostazioni mondane e dalle paure. Francesco invita poi a sperimentare nel silenzio la presenza di Gesù. Ognuno di noi può chiedersi, adesso, chi è Gesù per me? È un nome? È un'idea? È un personaggio storico soltanto? O è veramente quella persona che mi ama, che ha dato la sua vita per me e cammina con me? Per te, chi è Gesù?